Molto bene, abbiamo parlato di temi molto concreti, sentirò anche il Presidente Draghi sul tema lavoro, aiuto alle imprese, sostegno a chi rischia di perdere il posto di lavoro. Una volta ottenute le riaperture, grazie a Dio, grazie ai vaccini, grazie a Draghi, a Figliolo e anche alle insistenze della Lega, adesso la nostra priorità è tutta concentrata sul lavoro e la difesa dei lavoratori e delle lavoratrici.